Ciao a tutti, ben ritrovati su Dragon Age 2. In questa puntata iniziamo a vedere cosa è successo a Kirkwall negli ultimi tre anni dalla sconfitta dell'Arishock. Quindi andremo a chiacchierare un po' con tutti i nostri compagni di squadra. Ma prima di uscire vediamo che una è venuta a salutarci. Il nostro chestnut è il migliore. Ma noi adesso usciamo. Varric, Fenris e ci portiamo Anders. Come vedete Isabella non è cliccabile perché dopo averci tradito in un certo senso è uscita dal gruppo anche se poi tornate indietro ad aiutarci. Però potremo comunque andare a riprendercela parlandole alla taverna dell'impiccato. Prima di fare questo però voglio andare un attimo al di fuori, quindi al di fuori di casa nostra nella città superiore per prendere una quest secondaria. Secondaria Dicevo, voglio prendere questa quest secondaria perché in realtà per quanto io, grazie anche te, per quanto io appunto stia saltando Per quanto io stia saltando tutte le quest secondarie, nel senso non ve le mostro anche se le faccio, questa mi interessa farlo perché è una delle occasioni in cui troveremo i pezzi dell'armatura. In particolare troviamo proprio la chest dell'armatura del champion, quindi parliamo con Hubert. Non so se vi ricordate, vi avevo presentato questo personaggio perché è diventato il nostro socio in quanto lui possiede una cava al di fuori di Kirkwall che è chiamata le Bond Pit, la cava delle ossa. E siamo diventati appunto soci perché lo aiutiamo a proteggere i lavoratori e in cambio ci dà una parte degli introiti. Però a quanto pare stiamo avendo di nuovo problemi. Me l'aspettavo. Cosa faresti senza di me? Bene, abbiamo questa nuova missione. Però prima voglio andare a parlare un po' con i nostri compagni di squadra e poi andremo a farla. Andiamo subito da Isabella, direi. Direi che inizia bene. Isabella. Ma non ti sto tenendo d'occhio. Sono lieta che tu sia tornata. I'm Proud of your for doing the right thing. It may have been the right thing, but it was also the dumb thing. The Relic was mine. I should have kept running. I couldn't have saved Kirkwall without you. Bullshit. You could have stormed the keep and slaughtered all those Canari if you had to. You and Aveline. I mean, look at her. She's a woman-shaped battering ram. No, non lo sei. Bene, abbiamo riacchiappato Isabella ed è di nuovo nel nostro party. Parliamo adesso con Varric. Cosa ci faceva qui Anders? Ma perché non offri a me da bere? Sempre e comunque. Andiamo ad Aveline adesso. Quindi, Fortezza del Visconte, che tra l'altro non c'è più. Magari non davanti dei Templari, visto che adesso hanno preso il loro possesso della fortezza. Questo qui è da sei anni, che si lamenta sempre. Fai on, tre off. Città perimetre per i tuoi. Clear per second watch. Training recruits, full metal per Wig's End. Anything else, Captain? No. Thank you. Donic is... a good man. I'm sorry, was there something you wanted? Come è andata alla luna di Biele? Ebbene sì, si sono sposati. Le guardie sembrano ben addestrate. Curemen could give the Templars a run for their sovereigns. They've had to. As long as there's no Viscount, the Order thinks they can bark at any man in uniform. I won't have it. The people of Kirkwall need to see themselves in their guard. Lose that connection, we're just targets. Vi siete sistemata bene? Kirkwall seems to have rallied around you. I try to keep order, and people appreciate that. Everything else is going insane. A few complaints here and there, but for the most part, I think everyone's just glad the guard has been stable for a few years. Ci sono novità? Just checking in. Need anything? Yes, there's something. Come back soon. I'll get into it then. Va bene. Arrivederci. I'll see you later. Of course, Hawk. Perlomeno non ci chiederà più di aiutarla a conquistare uomini, visto che si è sposata. E ora è il turno di Anders. You think I don't know the city guard is just another arm of the Templars? That is completely unfair. If they show up here, I'll know who to blame. That's all I'm saying. I'm sorry. I didn't mean for you to see that. I just can't be too careful now that the Knight Commander has basically appointed herself Viscount. Questo però non ti autorizza a trattare male la povera Aveline. Ti dà la caccia? Are you in trouble? Not personally, but I grow less hopeful each day. The Mage Underground is all but destroyed and those left have turned to Blood Magic as their only option, which Meredith knows will prevent any chance of the public taking their side. Dai, però c'è ancora speranza. They're still us. I don't know how you continue to believe in me. How can people be so blind? The Blight was stopped only with the aid of two mages. One and Apostate. But it makes no difference. The Chantry set is on this path long ago. It would take something truly catastrophic to change people's thinking now. La sua ultima frase è preoccupante. Ora si va da Meryl. Come on, Daisy. Veric is... Very sweet. Frequently infuriating and a terrible busybody, but sweet. Were you looking for me? Nothing's wrong, is it? Non ancora. I'm sure something is wrong somewhere in Kirkwall. But right now it can wait. Checking up on me? I suppose you think I might summon an army of demons at any moment. In the market the other day, out of the corner of my eye, I thought I saw Tamlin. I blinked... and he was gone. I don't know what it meant. Maybe nothing. Maybe I'm going mad. And I miss them all. Even the keeper. E vai a trovarli. Nothing is stopping you from going to see them. I made my choice. I left. I wish I could have seen it. It doesn't matter. I'm here now. Maybe Veric is right. Shall we go out for a bit? I could use some sunshine. Ebbene sì, è proprio ciò che faremo. Infatti adesso andiamo lì, ci togliamo Anders dal party e ci prendiamo Meryl. Ci ha chiesto di fare un giro e quindi è giusto che la contentiamo e la portiamo con noi nella Fossa delle ossa per fare la quest che abbiamo preso a inizio puntata. Quindi, esterno di Kirkwall, Fossa delle ossa. Mamma mia, ma anche Meryl che è la più tonta del gruppo ha notato che Fenris fa gli occhi da cucciolotta Hawk. Allora, Fenris, vogliamo finirla di fare l'emo come Anders e darci una mossa? Su che Darsi ti sta aspettando. Come vediamo, il nostro possedimento non è messo molto bene. Distrutto, fuoco ovunque. Indaghiamo. Questa radura non promette niente di buono. Direi che prima di andare avanti mettiamo un attimo i punti esperienza a Meryl che siamo un po' indietro, mi sa, infatti. Portiamo anche a lei 25 la volontà e il resto è in magia. Le potenziamo, direi, la magia elementale perché tutto il resto dovremmo averlo finito, quindi tempesta di fuoco potenziati anche questi piramanzia e stretta invernale. Darsi anche a tre punti perché prima di cominciare l'episodio ho fatto un po' di giri di Vendor e ho acquistato un tomo che le dava appunto altri tre punti caratteristiche e noi glieli mettiamo anche lei 25 la volontà. Vediamo adesso cosa ci aspetta. Niente di buono, direi. Questo fa tanta bua! Ma quanto è cazzuta la nostra Darsi, mamma mia! Abbiamo ammazzato sto drago è stato un combattimento lungo Adesso dovrebbe aver droppato tra le varie cose sangue di drago Uh, forse sempre cose reagenti per l'ervialista Diandola di fuoco un altro reagente Mamma mia, un sacco di cose e vesti della campionessa esattamente quello che ci interessa Prendiamo tutto Ha anche trovato un pezzo in più della delle armature diciamo di Fenris Adesso è infatti a tre pezzi Andiamo a consegnare la quest Si torna a Kirkwall Città Superiore Averte i eyes, witch Mamma mia Sei incazzoso Fenris Ma Meryl se lo merita un pochino dai Giubè Le priorità innanzitutto giusto? Ma non l'ho fatto per i soldi Arrivederci Giubè Adesso come abbiamo appunto appena constatato abbiamo due pezzi dell'armatura chest guanti ci mancano scarpe e elmo Le scarpe adesso andiamo a prendere la quest che ci permetterà di dropparle Voglio solo fare un cambio al volo perché non è il caso di portarci Meryl per questa quest Dirigiamoci quindi alla forca Come vedete ho preso Aveline al posto di Meryl perché ci sta più dovendo andare a parlare con Meredith Vediamo solo un po' se il Dicevo vediamo solo se l'erborista è interessato a quello che abbiamo trovato dal drago Non è che mi abbia lasciato molta scelta Ci ha dato un dente di Urzara Vediamo se ha altro No Va bene Andiamo da Meredith Posso aiutarvi? Parlatemi di questo incidente Non possono occuparsi nei vostri templari Nei vostri templari non ci sono mage's families learn where they are hiding and find them before they do harm you will see that imprisonment or death is sometimes the only kindness we can offer speak to my assistant Elsa she can tell you whatever you need to know about the fugitives I did you good day champion arrivederci good day champion of kirkwall night commander meredith has informed me that you will be tracking down the apostates on behalf of the templars there are three of them you are the meal and evelina non siete forse un adepta della calma why does meredith have a tranquil assistant the night commander believes tranquil majors to be efficient and single e coinvolta alla magia del sangue are the apostates blood mages the night commander suspects this yes but she does not know for certain the night commander tends to assume all apostates practice blood magic she prefers to air on the side of caution parlatemi di huon i want to hear about you you want is an elf he was apprehended in the alienage ten years ago his wife nisa works for a dressmaker in lowtown cosa sa nisa have the templars spoken to her yes nisa insists she has not seen you once since she joined the circle proviene dalle enclave could you and be hiding among the other elves in the alienage the templars such as uncovered nothing the templars have also concluded that few other elves would risk hiding him you are was taken many years ago most of the alienages inhabitants do not even know him parliamo di emil tell me what you know about emil the second apostate is emil de lancet fifth son of the comte de lancet out of high town some of our more vocal and delicate nobility they are home in the evening's authoring complaints sono stati interrogati what have they said to the templars the comte and comtesse say they have not seen emil since he was a child parlatemi della famiglia what do you know about the de lancets he and his wife came to the free marches over three decades ago emil was born in kirkwall and sent to the circle at age six chi è evelina what do you know about evelina evelina was trained for eight years in the circle in ferelden she was last seen in her former residence among the refugee community in dark town nel farelden how did she come to be in kirkwall evelina claims to have fled the blight not the circle she presented herself to the first enchanter on her arrival and asked to take her place here and doesn't sound like a fugitive anything else our files indicate she petitioned meredith for financial support of numerous other pre-adolescent blight survivors is that a vista did the templars run into her in dark town yes they tracked her there but she killed several pursuers the templars believe she is the most dangerous apostate I have all the information I require for now good luck on your search champion of kirkwall grazie direi che andiamo subito all'enclave a cercare huon che è colui che ci droppa gli stivali dell'armatura i was speaking to donic the other day since when do you talk with my husband he comes to the mansion once a week we play diamondback what? why am I not invited to these games? he says you get angry when you lose I do not all right perhaps I do still that's no reason not to tell me it is if he's a betting man I disavow all knowledge of gambling occurring in my household città inferiore eccoci alle enclave ed ecco la moglie di huon puoi farmi delle increspature? potresti parlare? that would be helpful when the templars came I told them the truth I hadn't seen huon in 10 years but after they left he he came to me he wanted me to hide him I used to dream of him returning but not like this he's changed and I don't know him anymore I sent him away stay bene did he hurt you? only broke my heart dieci anni è un lungo periodo so you hadn't seen him since he left you? huon didn't leave me he was taken away when the templars found out he was a mage they chained him and dragged him from the alienage in front of everyone now I'm trapped in this sham married but with no husband and no future he's changed he was obsessed with showing everyone true elf in power he frightened me è un mago del sangue did you see him use any magic? perhaps blood magic would she know it to see it? I I don't know I don't think he used magic on me starai meglio senza di lui good riddance you don't need to be tied down to some man if he had been himself I would have taken him back gladly but but huon said he would return to take me away from this forever a user just looking for another handout I don't know what he means and I am afraid of him potrei proteggerti would it help if I returned? I'll make sure you're safe I would be grateful huon said he would come to the alienage soon at nightfall are you are you going to arrest him? I think he needs help maybe the circle will be able to heal whatever troubles him torniamo quindi di notte huon hush love don't be afraid your blood will bring new life to our people she was so beautiful non ne posso più someday I'd like to go one week without meeting an insane mage just one week I'm visionary I've seen our destiny I know what fate holds for the elves the humans keep us down because they're afraid of the magic within us look at the magic Nisa held inside her she was just afraid to use it it's always the same always one more is vanquished maledetti blood mages li odio sempre di più eccolo qui huon ed ecco qua gli stivali della campionessa possiamo quindi finalmente indossare l'armatura come dicevo già manca l'elmo ma lo prenderemo poi più avanti ma il resto possiamo già metterlo eccolo qui questa è l'armatura endgame della nostra Darcy secondo me è bellissima tra l'altro è molto più bella anche di quella da guerriero e da ladro a mio parere con questo direi che chiudo qui la puntata perché il mio scopo era appunto raccattare questi tre pezzi e l'abbiamo fatto le altre due uccisioni di maghi le vedremo poi la prossima puntata quindi vi ringrazio per essere stati con me e vi saluto ciao 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 ciao